Le forze sane della società hanno chiamato a raccolta e a cessaniti in molti hanno risposto dopo l'intimidazione a Don Felice Panamara, parroco di Pannaconi che ha subito addirittura un tentativo di avvelenamento, a Don Francesco Pontoriero, destinatario di esplicite minacce, al vescovo della diocese di Mileto Nicotere Tropea, a Tiglio Nostro, che ha trovato il bossolo di un proiettile nella cassetta della posta della Curia, al commissario del comune Sergio Raimondo e alla presidente dell'associazione Crisali di Romina Candela. Una marcia silenziosa che ha percorso le strade del piccolo centro del Vibonese, che sta cercando di rialzarsi proprio grazie alla cultura, allo sport e al lavoro incessante che sta facendo anche la Chiesa. Una marcia silenziosa alla quale hanno partecipato in segno di solidarietà non solo i cittadini, ma anche e soprattutto le istituzioni, con i sindaci con la fascia, il presidente della provincia, i consiglieri regionali Comito e Mammoliti, l'assessore regionale Varì, tante associazioni con in testa libera e soprattutto tanta gente, giunta da ogni luogo. Un corteo silenzioso e ordinato partito da Piazza Marconi e dal Sagrato della Chiesa di San Basilio per poi farvi ritorno per una preghiera comune. Cosa ha provato in questo momento? Abbiamo solo rabbia per le cose che stanno succedendo e vogliamo essere liberi e per cui dobbiamo solo lottare pacificamente, ma lotteremo. Tutta la comunità e tutta la provincia era qua presente con i sindaci, con le fasce? Ci fa piacere, ci fa piacere, ci fa piacere questo, perché vuol dire che queste persone non sono sole, perché hanno fatto una vigliaccata, quindi che cosa dobbiamo dire? Siamo uniti per mostrare la nostra solidarietà nei confronti di queste persone che sono state colpite da questa situazione veramente strana. E' la stessissima cosa, siamo tutti uniti per questo evento successo qua, quindi siamo tutti uniti. E' una serata importante che sta a significare la totale fiducia verso le istituzioni dopo un attentato così vile da parte di vigliacchi che hanno tentato di minare quello che è lo spirito della società civile. E tutto questo che è stato stasera è la dimostrazione che l'Andrangheta ha in minuti contati.